eccoci allo spirit de milan per l'inaugurazione il vernissage della mostra cappa memoris che abbiamo realizzato con il nostro professor de milanese marino zerbin il nostro musicista fabio wolf coordinato da me che sono marta marangoni presidente di minima teatraglia abbiamo chiesto ai nostri anziani del centro socio ricreativo del comune di milano sempre verdi sempre verdi di nome e di fatto abbiamo chiesto di donarci degli scatti che loro hanno ritrovato durante la quarta la quarantena scartabellando fra i cassetti e la elapozzo in una sessione fotografica li ha immortalati e sono venuti fuori questi scatti da cui naturalmente sono nati dei racconti queste persone ci hanno raccontato le loro storie perché hanno accostato la foto di oggi con la foto donata della loro giovinezza è stato un percorso molto bello e abbiamo l'onore di poterlo allestire oggi qui negli spazi meravigliosi dello spirit de milan e poterlo condividere con il nostro pubblico e con tutti quanti vedete che anche i racconti li raccontiamo nostri bimbi qui c'è daglia wolf che fa parte della due per due family e salutiamo insomma enrico anna cristina e tutti i nostri amici anziani sperando di trovarmi presto in un laboratorio teatrale in cui accosteremo le canzoni milanesi e i loro racconti i detti all'allestimento della mostra quindi sarà una mostra poi dal vivo prossimamente sul sui canali di minima teatrali per due ringraziamo tantissimo il municipio 9 per averci concesso la possibilità di fare un primo passo in questo progetto grazie 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 grazie